Cambia nome il Palazzo dei Maresciali del Consiglio Superiore della Magistratura, lo storico edificio degli inizi del Novecento Castro Pretorio, tra le prime zone di Roma ad essere costruite dopo l'unità d'Italia, espropriato a metà del secolo scorso e dal 1960 a sede del CSM. All'interno, da una ventina d'anni, una sala è dedicata a tutti i magistrati uccisi nell'adempimento del dovere, ma da oggi l'intera costruzione viene intitolata alla memoria di un magistrato, Vittorio Bachelet, ammazzato dalle Brigate Rosse il 12 febbraio del 1980, ricordato in una cerimonia alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, questa mattina. Questo è il lascito che ci ha consegnato il sacrificio di Bachelet, vicepresidente, nel solco della sua parabola umana e culturale. Cercare il bene nel tempo in cui c'è dato di vivere. Avere il senso di comunità e di unità. Non aveva ancora compiuto 54 anni Bachelet quando venne ucciso al termine delle elezioni sulle scale dell'Università La Sapienza, dove insegnava diritto pubblico dell'economia nella Facoltà di Scienze Politiche. Era vicepresidente del CSM, descritto al tempo come uomo di unità in un'epoca tormentata dal terrorismo interno, contro il quale erano impegnati in prima linea i magistrati. Vittorio Bachelet era iscritto alla DC, uomo di fede, proveniva dall'azione cattolica che aveva guidato in anni di tensione ideologica fino al 73 e lasciando nella presidenza aveva dichiarato dobbiamo guardare con fiducia al futuro per costruire ci vuole la speranza che ci consente di vincere le ombre attuali, i rischi di vincere il male con il bene.